Se da un lato sono ancora troppe le donne costrette a dover rinunciare alla carriera o addirittura al posto di lavoro per occuparsi dei figli, qualcosa finalmente inizia a muoversi anche nell'universo della paternità. Sempre più papà scelgono di restare a casa ad occuparsi dei figli appena nati. E questo succede secondo Save the Children, che ha diffuso una ricerca su dati IMSI in occasione del 19 marzo, la festa del papà, grazie alla legge sui congedi parentali. Il congedo parentale obbligatorio per i padri lavoratori consiste nel diritto che i padri hanno di poter usufruire di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% in occasione della nascita del figlio e possono essere utilizzati anche non continuativamente, cominciando dai due mesi antecedenti la data presunta del parto e entro i cinque mesi successivi. Pur restando un forte squilibrio di genere, la percentuale dei padri che usufruisce del congedo di paternità è più che triplicata tra il 2013 e il 2022. L'aumento di chi fa richiesta di questo diritto all'assenzione lavorativa si registra in tutta Italia, ma al sud il tasso si abbassa molto rispetto al nord. Ad utilizzare maggiormente il congedo sono gli uomini nelle fasce d'età comprese tra i 30 e i 39 e i 40 e i 49 anni. Inoltre è più probabile che il padre usufruisca del congedo di paternità se lavora in aziende medio-grandi, sempre secondo l'elaborazione di Save the Children dei nuovi dati IMSS. Vengono molti padri a richiedere informazioni su come funziona. Se per un papà prendere il congedo obbligatorio è ormai la normalità, un discorso diverso è però per i congedi facoltativi ancora poco utilizzati. Entrambi i genitori hanno la possibilità di utilizzare un congedo facoltativo che viene retribuito di norma al 30%, in via eccezionale per l'anno 2024 è prevista la retribuzione all'80% per i primi due mesi e questo congedo ha un'udalata massima per ciascun genitore di sei mesi.